Qual è il intervento di riparazione per cutanea della valvola? La sua insufficienza migliorando notevolmente il quadro clinico del paziente. L'intervento è assolutamente meno invasivo di un intervento chirurgico, viene fatto senza fermare il cuore e però deve essere un paziente selezionato con delle caratteristiche tecniche ben precise perché appunto la clip deve poter prendere i lembi e assicurarne la stabilità nel tempo. Altre procedure sicuramente qui staranno emergenti nella nuova sessione che si va a discutere sono le procedure transcatetere di riparazione della valvola aortica in questo caso che ormai è dimostrata efficace, sicura e sicuramente da prendere in considerazione nei casi dei pazienti fragili in cui un intervento di cardiochirurgia è per il momento ad alto rischio o controindicato. Grazie. 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 Grazie.